Sapevi che nei mercati valutari sono scambiati più di 5.000 miliardi di dollari al giorno? Sapevi che sono 10 milioni le persone nel mondo che fanno trading online nel Forex? Sapevi che il 95% dei trader al dettaglio perde denaro a causa della mancanza di competenze, approccio strutturato e conoscenze? Un bel problema nel più grande mercato finanziario al mondo. Per questo arriva Arise Academy, un'accademia che è stata progettata per insegnarti tutte le competenze necessarie per rientrare nel 5% dei trader che ci guadagnano. Ma cos'è il Forex? Se hai viaggiato in un paese straniero, magari hai dovuto cambiare del denaro. Se è così, hai già fatto Forex Trading. Quando le valute vengono scambiate hanno un certo prezzo che è detto tasso di cambio. Come in ogni mercato, il prezzo di una valuta è determinato dalla legge della domanda e dell'offerta. Per esempio, se ci sono molte persone o aziende che vogliono cambiare euro in dollari, il prezzo del dollaro aumenterà rispetto all'euro, modificando il tasso di cambio. Facciamo un esempio della vita di ogni giorno per spiegare come si può trarne profitto. Poniamo che dall'Europa, dove vivi, tu sia andato in vacanza negli Stati Uniti. Hai cambiato 500 euro in dollari USA al tasso di 1,4 dollari per ogni euro. Ora hai 700 dollari americani. Immaginiamo ora che tu non spenda nulla in vacanza. Quindi hai ancora 700 dollari al tuo ritorno. Se il tasso di cambio scende da 1,4 a 1,3 dollari per ogni euro, invece di avere solo 500 euro indietro, ne otterrai 538,50. Hai guadagnato 38,50 euro semplicemente detenendo i fondi in dollari mentre il tasso di cambio variava. È così che puoi fare trading nel mercato del Forex. Puoi comprare una certa quantità di una valuta, tenerla mentre il tasso di cambio si muove e poi cambiarla di nuovo guadagnandoci su. Ora, immagina di imparare queste abilità in tutta comodità dallo smartphone o altri dispositivi intelligenti. Perché a Rise Academy ti insegneremo l'approccio necessario, come decidere quando comprare e vendere, come capire le oscillazioni valutarie, i diversi tipi di analisi dei grafici, come funzionano i mercati esteri, le migliori strategie di trading. Ricevi idee di trading facili da seguire inviate direttamente al tuo telefono, una videoteca che ti permette di imparare nel tuo tempo libero e al tuo ritmo, webinar dal vivo con esperti globali e molti altri. Abbiamo creato un modo unico e conveniente per trarre profitto dal più grande mercato finanziario del mondo. Scopri di più visitando a Rise Academy sul sito web di NextRise. It's time to Rise with Arise Academy. Grazie Grazie a tutti.